Ciao, Jackson. Fiona! Sì, sono io in persona. È davvero fantastico vederti. Sì, fa piacere anche a me vederti. Ascolta... Come stai? Beh, sto abbastanza bene. Sei davvero stupendo. Grazie mille. Senti, ti sembrerà strano, ok? Perché non ti chiamo per riallacciare con te. Chiamo semplicemente per recuperare il mio Rolex, che credo abbia tu. Questo me lo ricordo. Cosa? Quello che sta per succedere. Ah, il ricordo del futuro, certo, ok. Beh, allora immagino ricordi che mi ridai l'orologio. Hai perso l'orologio? Sì, diciamo che ho perso il mio orologio a Laguna, perché me l'ero tolto per evitare onestamente. È stato un pensiero carino nei tuoi confronti, perché non ti volevo graffiare. L'hai fatto lo stesso, però. Senti, se l'hai preso, allora mi dispiace. L'ho lasciato lì ed era una tentazione, data la tua posizione, simile a quella del plebeo, quella principessa che cerca di tenersi qualcosa di prezioso, come l'idea che hai di poter aspirare a quelle come me. Insomma, lo capisco. Credi che abbia io il tuo orologio? Beh, sai, è un Rolex. Sono sicuro che lo è. Appunto. No, non ho io il tuo orologio. Sei così dolce. Tu sei dolce ma trasparente. Trasparente? Beh, dolce, lo capisco. Stai cercando con tutte le forze di non amarmi. Faccio fatica, ma sto provando a non farlo. Mamma mia. Ho davvero bisogno del tuo amore. Ho bisogno soltanto dell'amore. Beh, perché non provi ad averlo da qualcuno che è più alto livello? Io stavo parlando al posto tuo. Non ero io che parlavo. Attraverso me stavi parlando. Ok, è una cosa che non direi mai, quindi non avevo... Sei talmente bella. Sì, grazie. Anche tu non sei male. E sono sicura che c'è una cameriera fortunata da qualche parte o magari una commessa che non vedrà l'ora di stare con te perché tu probabilmente sei un ottimo venditore perché vedo che hai un bellissimo ufficio. Tu hai molto da offrire, Jackson. Dico davvero. Quindi perché non la smetti di sbattere la testa contro questo muro? Sii felice di te stesso. Non hai bisogno di me. Quello che stai dicendo è sto dando a me stessa delle scuse per chiamarti, per vederti, per entrare in contatto con te e per amarti. Certo è così dalla tua prospettiva, ma... È quello che faccio sempre. Vedere il mondo dalla mia prospettiva. È quello che fanno tutti. No, vedi, io penso che se hai compassione puoi vedere il mondo con gli occhi degli altri e io ho studiato per fare questo, quindi... Tu ti stai nascondendo. Lo vedo, ti nascondi. Va bene. Manda l'orologio a Laguna Resorte. Ti ringrazio in anticipo. Ti amo. Che essere umano sfibrante, santo cielo.